Che grande partito che abbiamo fatto, anche a perdere 1-0 era una frustrazione perché la squadra ha giocato veramente bene contro una squadra ottima che di solito controlla tutti i partiti con grande qualità di possesso lo abbiamo fatto noi, abbiamo giocato molto molto bene e la vittoria dei giocatori e la vittoria dei tifosi che erano in campo che è una cosa assolutamente straordinaria io voglio ringraziare la proprietà e Tiago Pinto per l'appoggio emozionale che io avevo bisogno per il mio equilibrio emozionale per questa partita e voglio anche dedicarlo prima di tutto a un ragazzo fantastico dopo un allenatore fantastico che è Salvatore Lillo Le chiedo quanto è forte psicologicamente questa Roma perché si gioca spesso Guarda, è dura, è dura Lavoro tanto, lavoriamo tanto per avere questo atteggiamento di un modo permanente e non un pochino agli alti bassi e oggi all'intervallo 1-0 perdevamo io ero tranquillo, ero soddisfatto con i ragazzi se oggi perdiamo questa partita io vado a casa frustrato a casa no, a Trigoria che vivo in Trigoria andrebbe a Trigoria frustrato però non triste con i ragazzi tutti l'opposto, sono state una squadra dal primo minuto anche a perdere 1-0 Ci salutiamo con la continuità di questa squadra tre vittorie su quattro nelle ultime in campionato diventa fondamentale Sì, però adesso bisogna respirare una partita solo domenica bisogna respirare un po' perché è stata dura Sì, però adesso bisogna respirare un po'